Siamo con il nutrizionista Antonio Sedita. In vista delle feste si ci abbuffa, si sa, e quindi poi si possono avere problemi non solo di peso, di sovrappeso, ma anche di salute. Un alimento che non manca mai sulle tavole è il pane e per le feste se ne mangia pure di più. Cosa devono sapere le persone per quanto riguarda il pane? Allora, per quanto il pane sia un alimento comune, che si trova facilmente nelle case di tutti i giorni, è importantissimo che sia un pane di qualità. Quindi quando parliamo di qualità del pane, a che cosa dobbiamo fare riferimento? Prima di tutto al metodo di lievitazione. Il metodo di lievitazione sicuramente eccezionale è quello creato dal lievito madre. Perché ha dei vantaggi rispetto al lievito di birra e al lievito madre? Ha dei vantaggi perché, oltre ai lieviti presenti nel lievito di birra, come il sacromices, presenta anche dei batteri fermentanti che fanno acidosi lattica. Questi batteri sono della famiglia dei lactobacilli. Primissi in assoluto è il lactobacillus casei. Questo lactobacillus casei è intanto uno dei batteri endemici del nostro intestino. Poi fa sì che l'alimento stesso, quindi questo pane, si digerisca all'interno del nostro intestino tramite questi batteri, facilitando molto di più così il transito intestinale e l'assimilazione dei nutrienti stessi del pane. Tra l'altro, cosa comporta questa maturazione del pane con i lactobacillus casei? Comporta anche una disgregazione dei minerali, quindi una loro liberazione all'interno del nostro organismo. È una maggiore assimilazione di questo. Questo per quanto riguarda il pane comune di tutti i giorni. Poi potremmo anche andare a ricercare dei pani un po' più complessi e molto salutari, come per esempio un pane di grano farro. Il pane di grano farro è uno dei primi pani, addirittura il farro si utilizzava dal neolitico, quindi pensate un po', i nostri antenati già erano dei cultori di questi cereali. Il pane farro è indicatissimo per esempio per gli sportivi, perché ha un maggiore apporto proteico. Tra l'altro un indice glicemico è molto più basso, quindi molto indicato per attività sportive. Un altro grano non grano, famosissimo e da utilizzare nelle nostre tavole, è sicuramente il grano saraceno. Il grano saraceno è un ottimo prodotto, ma perché? Perché contiene due fondamentali nutrienti. Uno è l'inositolo, che è responsabile del legame dell'insulina ai nostri recettori, è un mediatore. E questo fa sì che il nostro organismo sia più pronto al recepimento dell'insulina, e quindi ha tutta la via biosintetica connessa ad esso, come il sequestro del glucosio dal sangue. Altra proteina importantissima per quanto riguarda il grano saraceno è la rutina. La rutina perché è così importante? Perché riesce a tonificare i vasi sanguigni, quindi è indicatissima nei casi di ipertensione o di malattie cardiovascolari. Un altro alimento di cui potremmo parlare, che adesso va molto di moda, è il pane al carbone vegetale. Il pane al carbone vegetale è una chicca, ormai si trova sempre di più nei nostri panifici. Perché è una chicca? Perché riesce a sequestrare un po' le tossine presenti nel nostro organismo. Bisogna fare solamente un'attenzione, perché i fitati di questo pane potrebbero disattivare alcuni farmaci, quindi l'assunzione di questo pane deve essere correlata solamente ad alcuni momenti della giornata, preferibilmente lontano dall'assunzione di altri farmaci.